Decollo, vuuu, 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 Dorotea, beh, ci sei tu sotto il mio cappello? Certo, mi sono vestita da befalla, quindi mi spiegheresti che cosa ci fai anche col piumino della polvere? No, no, piumino della polvere, sembrava. No, è una skart. Una skart. Certo, una skupersmort. Ah, chiaro, la parcheggi dove vuoi e sei pronta per andare al lavoro, giusto? Oh no, ti ho solo portato l'attrezzatura del mestiere. Grazie. E tu? Io vorrei una festa, vorrei un lavoro a te. Senti, questo è proprio uno spirito da befalla. E certo, è il tuo. Buona befalla a tutti noi. Buona befalla a tutti noi. Wow, wow.